Dal 5 al 26 marzo uno dei tratti della riserva del Borsacchio classificati come duna grigia con codice protezione natura 2000 della riserva è stato totalmente sbancato con scavatori che hanno lavorato fra duna e terra, spostando sabbia e danneggiando presumibilmente la vegetazione dunale spingendo rifiuti dal campo in spiaggia. Questo è il tema dell'esposto presentato dall'Associazione Guide del Borsacchio e inoltrato al Sindaco di Roseto, alla Polizia Municipale e Provinciale, alla Capitaneria di Porto di Giulianova e Carabinieri Forestali e all'Ufficio Ambiente della Regione Abruzzo. Un'azione fatta per capire se questi lavori erano stati autorizzati e comprenderne l'obiettivo. Non c'è né un PAN in vigore né un comitato di gestione. Questo ha comportato che nei giorni scorsi, da inizio marzo, sono iniziati dei lavori in una zona di pregio. C'è una zona classificata come duna grigia, classificata dal geologo Leo Adamoli nelle relazioni del PAN, addirittura fotografata per la sua importanza e biodiversità che è stata totalmente arata. Sono state sbancate le dune, l'aria retrodunale. Ora, molti diranno che un agricoltore ha pulito il terreno. Quei terreni non sono fertili, non sono così perché sono sabbia e sale. Non cresce nulla. Per questo non sono più coltivati da qualche decennio. La ditta che ha eseguito i lavori non si occupa di agricoltura, si occupa di stabilimenti balneari, ristorazioni, accoglienza turistica. Una vicenda su cui l'associazione, che da anni si occupa della salvaguardia della riserva, chiede delle risposte immediate. Siamo sicuramente pronti a manifestare. L'importante è capire cosa sta succedendo. Ed è ora che ci sia comunque un ente gestore e si attivi una gestione, perché questo è solo uno dei tanti problemi. Negli ultimi tempi, bisogna è giusto dirlo, ci sono due tipi di soggetti all'interno della riserva. Cittadini che tengono al loro territorio, agricoltori locali che tengono ai loro terreni. E poi stanno arrivando molti speculatori, perché quei terreni sono appetibili. Ci sono molti proprietari che stanno acquistando non di roseto, addirittura da fuori regione, che si stanno travestendo da finti contadini per portare palazzine e villaggi dalle colline al mare.